Giorno di scena Ora facciamo volare il drone Ehi Anto, domani giro in montagna? Sì, grande, ora vado a preparare l'attrezzatura Ci vediamo domani alle 7 Wow Giorno di scena Si dovrebbe salire verso sopra Banzolla Ok, ciao Riccati sei Ora facciamo volare il drone Sì, dobbiamo andare a fare 7 o no? Un po' di riposo dopo la camminata Un obiettivo Wow Manca poco Ma che spettacolo E' un po' di riposo Sì, dobbiamo Grazie a tutti.